Ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale è in FIPILI. Prudenza per pioggia su gran parte della regione, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per la cantieristica segnaliamo sulla SR70 della consuma traffico interdetto ai mezzi pesanti fino al 16 giugno per lavori tra le località Palaie e Consuma. Ci spostiamo sulla statale Trebisti Berina E45 dove troviamo riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra Madonnuccia Poggiolino e Sansepolcro Nordi, tra Canili e Val Savignone, tutto in direzione sud. Siamo al traffico urbano di Firenze. Per un incidente tra due bus all'intersezione tra via Fra Bartolomeo e via Leonardo da Vinci le due strade sono chiuse. Ulteriore aggiornamenti nelle prossime edizioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!